Finalmente ci siamo, apriamo la Terni-Rieti, un altro investimento significativo di ANAS su un itinerario che da parte da Roma con il piano salaria, si attacca a Rieti e poi si conclude a Terni. Un investimento complessivo di 20 milioni di euro, adesso stiamo completando i 2,8 km che ci consentiranno di aprire la tratta dalla Galleria Montelungo fino ad arrivare alla Galleria Valmerina. In questo momento ci troviamo sull'opera d'arte significativa di questo intervento che è l'opera di attraversamento del fiume Velino, un viadotto di 500 metri. Importante questa opera perché grazie alla sinergia di tutti siamo riusciti a completare un'opera dove nel 2017 c'era stato il fallimento di un'impresa e quindi rischiava di essere un'opera incompiuta invece mettendo a sistema le energie di tutti i tecnici di ANAS, finalmente oggi apriamo un'opera molto attesa dal territorio. Una volta completato il lotto, poi successivamente completeremo anche lo svincolo di piedilugo che consentirà di ricucire anche la viabilità secondaria e quindi di dare un ulteriore servizio al territorio.